no 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 mamma verso dell'amido di me sul tavolo subito ti prego mamma ciao a tutti ragazzi io mi chiamo Leonardo e benvenuti sul mio canale eh molti di voi mi avevano chiesto Leonardo ma puoi fare lo slime? beh ragazzi ci ho pensato e ho deciso di fare quello con i marshmallow lo slime marshmallow l'ho visto fare in molti su youtube Mauro che ne dici? lo facciamo insieme però prima cosa adesso me lo mangio io visto che questi marshmallow sono proprio buonissimi verrà buonissimo pure lo slime perché è commestibile? non ci vuole nessun detersivo e ci vogliono pochissimi ingredienti due ingredienti e due attrezzi allora ragazzi per questo esperimento ovviamente ci servono i marshmallow una un recipiente una ciotola quadrata o rotonda un cucchiaino e dell'amido di mais cosiddetto maizena per prima cosa mettiamo i marshmallow nella ciotola un bel po' le prendo tantissimi e quasi tutta la busta eeeh marshmallow tutta la busta di marshmallow guardate quanti? poi bisogna metterli nel microonde andiamo li ho messi nel microonde si è tutto sciolto però non li assaggiate perché si è appiccicato mescoliamo è giunto il momento dell'amido di mais sta funzionando sta funzionando però si sta attaccando il coso dovete aggiungerne piano piano da farle staccare farle staccare tutto lo slime marshmallow dalle pareti della scodella che roba che roba che roba quante roba ma bellissimo ragazzi guardate dovrebbe venire così esperimento super riuscito vediamo forse forse è un po' ma po' fluffy fluffy slime significa che quando lo tocchi fa si un pochino lo è no non è tutto no 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 staccati ok sentite ragazzi questo è l'unico modo devo fare una cosa ma no 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 ma attaccati no 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 mapo dovete mettere tanto amido di maestro ragazzi perché no ma non si riesce non si riesce a staccare dalle mani mauro secondo te questo esperimento è riuscito a parte l'appiccicosità sì grazie Mauro devo spalmare bene le mani che così non si appiccica si toglie si toglie facilmente abbastanza facilmente vi dovete spalmare bene l'amido di mais sia sul tavolo e sia sulle mani così è meglio per me non è più appiccicoso adesso ne approfitto per stircchiarlo che bello lo vorrei tenere per sempre ma un pochino 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 ne voglio mangiare mamme non guardate come sono ridotto un po' di polvere ma che volete che sia ecco che volete che sia a Mauro gli è cresciuto un tallone Mauro assaggia prima te per me è un onore per me è un onore si appiccica? si si un pochino allora ti do un po' di amido di mais tieni mangiatelo ecco che mangiati l'amido di mais mangiati questo ecco mangiato buonissimo ok sembra sembrano le big bubble le gomme da masticare una big bubble gigante formato maxi la prendo da le gambe beh allora Mauro chi salutiamo oggi? questi sono i miei saluti per voi pa i titoli di coda che scendono 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 e si mangiano quel ragazzi ragazzi spero tanto che questo video e questo slime marshmallow vi siano piaciuti mettete un mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo marshmallow pezzo slime ciao ciao urus ti sei combinato non andare in giro mi devo sciacquare un po' le mani perché non si applicica più se mi sciacquo un po' le mani no ci vuole altro amido non ci vuole l'amido scordami Sabino ha detto che non ci vuole l'amido lascia vedere le mani un po' bagnate no più messi l'amido guarda più si aspetta non mi sciacquo le mani spe andate che c'è la telecamera lì Leo hai capito? allora Leo posso soffiare? no non soffiare io soffi no non soffiare che va tutto nella telecamera non soffiare non soffiare